Le regole restano sostanzialmente quelle degli anni scorsi anche perché l'attività della pesca è compatibile con la situazione emergenziale legata al covid. I quasi 6.000 pescatori associati ai 12 bacini di pesca bellunesi fremono per poter tornare a contatto con la natura. L'appuntamento sarà per tutti l'alba di domenica prossima, un'attività che non incide sulla conservazione della specie. I pescatori sono un presidio sul territorio perché loro lo frequentano, lo conoscono e sono in grado di segnalare qualsiasi difficoltà che il territorio abbia e in più sono in grado anche di fare delle operazioni in maniera gratuita di recupero del pesce. Prelibata e tipica delle zone di montagna è la trota marmorata. Attualmente sulla base di un principio di precauzione la trota marmorata è stata posta in divieto di trattenimento. In realtà noi vogliamo dire siamo in grado di far trattenere alcuni di questi esemplari, magari quando hanno raggiunto una certa taglia, magari semplicemente con un certo numero, in maniera tale da dare una solfezione anche al pescatore che vuole effettivamente alla fine poi portarsi a casa. Veneto Agricoltura ha chiesto alla provincia una fornitura per una immissione di esemplare di trota marmorata nel tratto del Piave che scorre in pianura. È per questo motivo che le acque bellunesi sono ambite e richieste anche da pescatori stranieri. Si calcola che la loro presenza superi le 100.000 unità ogni stagione, il che fa bene al settore costretto a subire i danni prima causati dalla tempesta vaia che ha avuto un grosso impatto sulla fauna ittica in Agordino nella parte alta della provincia e nella parte centrale del Piave, poi dalla pandemia che ha sospeso la pesca per due mesi lo scorso anno causando minori introiti per circa 100.000 euro. L'amministrazione provinciale quest'anno ha investito su una guida agile, un libretto informativo a scopo divulgativo per l'esercizio della pesca sportiva.